... Amici di MySoccerPlayer, un buon pomeriggio vi giunge dallo stadio Caporuscio di Pontini a microfono Lidon Orlandi per raccontarvi la partita tra l'Atletico ed il Ferentino ... ... Pallone per il numero 11, si è allargato Galeazzi, Guanavarra, converge, zona tiro e pallone che finisce sul fondo, quantomeno ci ha provato ancora per Aquilani Tenta di mettere il pallone in nata e ricorda Gesmundo Gesmundo la tocca all'indietro, poi c'è il tiro, la risposta di Vicini, l'azione non è finita perché Bordin con la porta praticamente spalancata Attenzione perché Oriano era già ammonito e si guadagna il secondo cartellino giallo il numero 8, un colpo rifilato a Bordin e Ferentino in 10 Ebbe un risultato del tutto positivo, intanto attenzione perché Arduini si porta in zona tiro Arduini alla ricerca di un contatto e poi va al tiro e la grandissima parata di Saglietti Navarra vicino a lui, lo stesso Arduini Pallone sul primo pallo verso Tagliani che tocca ma non riesce ad indirizzare verso la porta Cambio con un compagno, attenzione Pallone buono in area di rigore, il cross in direzione di Arduini E ancora una volta C'è un lungo in direzione di Cardinali Cardinali resta in La lotta in area di rigore va a Cardinali E il Ferentino in vantaggio al tredicesimo Pallone per il colpo di testa da parte di Cassini E poi c'è il raddoppio del Ferentino Ha segnato Tagliani Al limite dell'area piccola Adamo verso la porta Vicini la respinge, il pallone che resta lì Poi la girata ancora Vicini Clamorosa parata del portiere del Ferentino Bravissimo Ancora Salvadori Mezzo a due avversari finisce a terra E c'è un altro rosso Ancora Cassini Ed è finita Pischietto tra le labbra per il signor Ventrone Era questa l'ultima azione del match Al capo ruscio Finisce 2-0 per il Ferentino Passione 3-0 per il serbino Distruttana Collectione 3-0 per il silenzino 生活